Il centro di riabilitazione Teri offre riabilitazione e fisioterapia completa di percorso in piscina calda a 34 gradi. Ti aspetta Cava dei Tirreni in via Gino Palumbo numero 19. Il Cava Basket continua a credere alle proprie possibilità di guadagnare la migliore posizione in classifica in ottica playoff. Dopo aver già battuto la cestistica Benevento domenica scorsa a San Pietro, la compagine del coach Pino Ferrara si è ripetuta anche giovedì sera sul campo del Marigliano secondo il risultato di 83 a 68. Era una partita che il Cava giocava su un terreno non facile contro un avversario ritenuto alla vigilia ostico e il risultato è stato incrementato soprattutto negli ultimi due quarti. I metelliani sono stati bravi a controllare la partita, rimanere sempre concentrati sul pezzo, non hanno regalato niente, hanno spinto più giocatori in doppia cifra tra cui il più prolifico è stato Somma e hanno così guadagnato la quota dei 40 punti frutto di ben 20 vittorie in 26 giornate. A quattro turni dalla conclusione del campionato regolare di Serie D, i bianco-blu potrebbero assestarsi tra il terzo e il quarto posto anche perché hanno quattro punti in più del Montesarchio e si trovano a meno quattro dalla cestistica Benevento che è seconda. La Pasqua arriva puntuale anche per il Cava Basket che in questo weekend si riposa e tornerà in campo domenica prossima l'8 aprile a Cava contro la Palacanestro Salerno che è la seconda forza del girone.